Ciao, io sono qui come imprenditrice, come cittadina del mondo, come donna, come madre, come poeta, come volontaria e attivista del campo dell'ecosofia. Grinter rappresenta per me l'utopia concreta di ciò che è l'ecosofia, detta anche ecologia profonda, che vede l'essere umano come parte del tutto, rovesciando la prospettiva antropocentrica. Definirsi etici nei salotti e poi lasciare che l'economia distrugga l'ambiente e la società significa esserne complici dello sfacelo a cui assistiamo. Anche la mia cooperativa Terra Nova Onlus vuole contribuire coi fatti ad una vera rivoluzione possibile, tessuta nelle trame dell'economia, delle naturali attività di scambio merci e servizi. Amo Grinden anche per il suo motto ispirato alla gentilezza, sentimento che muove a sorriso e solleva i cuori, vibrando su tutto il pianeta, pieno di persone meravigliose come voi. Grazie per esserci, Paola dall'Italia.